Presente tra le gatte del primo gruppo di allenamento per la nuova stagione 2023-2024, anche la capitana Noemi Signorile, che si prepara alla sedicesima stagione in Serie A. Le sensazioni sono ovviamente positive, c'è sempre un po' di emozione, perché come sempre il primo giorno, come se fosse scuola, qualsiasi cosa, è sempre emozionante, quindi sono contenta di essere ritornata qua a Cuneo, al Palazzetto. Come primo giorno vediamo, adesso abbiamo il primo allenamento qua al Palazzetto, vediamo come sarà, per ora è andata bene, abbiamo fatto piscina e vediamo i prossimi giorni come andrà. La squadra è praticamente tutta nuova tranne me e Anna, mi aspetto di fare un buon campionato, di fare meglio dell'anno scorso sicuramente e speriamo di avere un po' più di continuità che quella che un po' c'è mancata la passata stagione, quindi sicuramente questo sarà il primo obiettivo di quest'anno. Abbiamo un programma di massima per questo primo periodo, ovviamente inizieremo con calma perché c'è qualcuno che fermo da qualche mese, quindi si comincerà con calma per poi arrivare pronte alla prima di campionato perché abbiamo subito una sfida importante a casa di Pinerolo, che è un palazzetto che sappiamo non è molto semplice giocare, quindi è una bella partita dai, quindi speriamo di arrivare pronte e cariche perché è importante cominciare bene. Per me è il quarto anno qua a Cuneo, come ho sempre detto è un po' casa mia, quindi sono contentissima intanto di essere di nuovo qua e l'approccio come sempre, come ogni anno, cercando di dare il massimo, cercando di creare un bel gruppo che alla fine è un po' stata la nostra arma vincente di questi anni, comunque creare un bel gruppo e sicuramente sarà quello che farò anche quest'anno, cercheremo di dare il massimo e di lavorare sempre sodo e di fare i risultati più positivi possibili. Siamo in tante qua oggi, è già un bene perché riusciamo a conoscerci un pochino meglio, poi aspetteremo che arriveranno le altre, ma comunque non preoccupa questo perché alla fine arrivano già bene allenate, quindi troveremo il feeling lo stesso.